12 punti delle ultime 5 partite e questo è il biglietto alla visita che presenterà domenica il fano a San Francesco. Gli uomini di Cornacchini, reduci dalla vittoria casarinca contro l'Italia San Marco, sono ormai stabilmente in zona playoff, dopo un inizio di torneo poco felice, che le aveva visti anche all'ultimo posto nelle prime giornate, e possono vantare la miglior difesa del girone con i soli 12 gol incassati. Difesa che però domenica doveva far a meno della coppia centrale formata da Cacioli e Fenucci, entrambi squalificati. Così come i rossoneri, anche i marchigiani sono stati ripescati in estate in seconda divisione, dopo aver concluso al secondo posto il girone F di Serie D, e si sono affidati a Giovanni Cornacchini, l'anno scorso vincitore del campionato di eccellenza con il Città di Castello. Il 44enne tecnico all'esordio dei professionisti cambia spesso modulo a seconda degli avversari, con preferenza per il lineare 4-4-2. Il titolare tra i pari, il 19enne Lombardi, riconfermato dopo l'ottimo campionato scorso, e che anche dai prof sta mostrando ottime cose. In difesa, vista l'assenza degli esperti Cacioli e Fenucci, probabile lo spostamento al centro del terzino destro Savini, 23enne arrivato dai diventati nel Montecchio, affiancato dall'argentino Baratteri, solitamente in piega dal centrocampo. A sinistra rientra l'esperto Amaranti, alla quinta stagione in Granata, con il classe 90 Bruno, arrivato in estate dalla primavera del Napoli, a destra a colpe dalle di reparto. Il centrocampo prevede a destra del 23enne Alex Ambrosini, l'anno scorso ad ora di un ottimo campionato a Bellaria, e riconfermatosi in questa prima parte di stagione, che fa la spola tra mediana e attacco. L'ex Gela e Paganese Marinucci Palermo, ed il riconfermato Ettore Ionni, presidiano la zona centrale, che deve fare almeno da qualche giornata l'infortunato Marchetti, fino ad un mese fa l'idea del reparto. A sinistra, ma spesso costretta a scalare al centro, quando Ambrosini sale sulla linea degli attaccanti, c'è solitamente Baratteri, quasi sicuramente sostituito dalla classe 88 Carbonari, visto il probabile rientramento dell'argentino in difesa. L'attacco ha beneficiato nelle ultime settimane del ritorno al gol di Cristian Pazzi, attaccante per elevato in estate all'alberato Curiangolana, autore di circa 80 gol negli ultimi quattro campionati di Serie D, ed in versione fantasma fino ad inizio novembre. Da torre centrale agisce il riconfermato Enrico Bertolini, tra i protagonisti del bitante campionato scorso di Granata, e autore di 5 gol in questo giro d'andata. L'uruguaiano Invernizia, arrivato dalla città di Castello insieme a Cornacchini, ed il giovane Baldazzi sono invece le alternative del reparto. Si tratta quindi di una squadra che può disporre di ottime individualità e che viaggia sulle aree dell'entusiasmo, decisa a continuare a San Francesco la sua siccia vincente.